Ben ritrovati ragazzi, eccoci qui, un nuovo episodio di questa serie verso la grande opera, siamo qui a Maya Monuments, ho risolto un po' di problemi che riguardavano l'elettricità mettendo questa centrale di energia solare con i nuovi pannellini, questi qui, pannelli solari concentrati che ho sbloccato con la ricerca all'Università Maya Carbon, ho risolto un po' di problemi che avevo con l'elettricità, infatti qui avevo un po' di zone al buio, compreso il centro espositivo, Cinqlob Theaters, e via dicendo, adesso, vediamo un po' come siamo messi con la grande opera, che è il nostro obiettivo principale, ricordo, eccola qui, prima me ne dava di più di risorse, adesso me ne dà di meno, vabbè, comunque stiamo continuando a mandare, allora qui abbiamo un problema con le acque reflue, lo risolviamo subito mettendoci un altro di questi qui, una bella tanica per depurare le acque reflue, mettiamo qua, ok, perfetto, intanto facciamo una bella cosa, organizziamo un eventuccio, facciamo un evento sportivo, ci sto, e insieme facciamo anche un bel, una bella rappresentazione, una 6.000, ok, vediamo un po' quanto ci entra, perfetto, l'acqua mi siamo messi bene un po', adesso mi dà l'auto, vediamo un po' se posso, non c'ho spazio, no, non ho spazio, facciamo un evento sportivo, no, perché ritardo, ok, forse qui ora possiamo pensare, esatto, la strada la facciamo, così, perfetto, andiamo un po' più veloce, abbiamo da demolire questo, andare a scuola, ragazzi, io qui la scuola ve l'ho messa, la scuola elementare, poi ci sta l'università Maya Carbo, non so che dirvi, in questo momento le scuola non posso metterle, perché nel cerebro di molto le tasse, a parte non c'è manco tanto spazio, magari più avanti, vediamo un po' se possiamo risolvere con qualche cosettino, ok, manca rotta, e perché? troppi germi, troppi germi, da oggi ti botto questo, vediamo se ricostruiscono che si migliora la situazione, tanto l'evento sta andando, vabbè un po' si ha girato, cazzo, mettiamo un po' le tasse, resti di massa, la gente continua a entrare, a pagare il biglietto, siamo a 426, abbiamo 3.000 posti, che dice la scuola, le aule sono piene, devo aspettare, siamo già in attivo, 972, 82, 1.012, quest'altro, ok, 1.144, eccola la, dove è il tornado? a caputana, terremoto, spolini nucleari, tornado, dove passano questo? a caputana, che appartamenti, finito? penso che ci siamo cavati abbastanza bene, non so che fai questo? ho spaccato tutto, non so che fai questo? questo? se nemmeno, ce nemmeno mettiamo, qua roba, lo diamo, ok, sono le 18.25, lo diamo, ma non c'è una grossa affluenza, vediamo un po' se raggiungiamo il massimo, quasi raggiunto, 2785 su 3000, continuano ad arrivare, la situazione si è un po' risolta, abbassiamo, se no qui si incazzano tutti, no, così mi sono sgherato, facciamo un momentino così, ok, 1664, a parte è un revento, manca rotta, qui possiamo migliorare la villa del sindaco, mettiamo un balcone, qua, va bene, rialziamo le tasse, no, perché fabbrica non ce ne sono, ragazzi mi dispiace mandate pagare un po' di più, a parte c'è tanti tanti servizi, quindi, manca assoluto tempo, guardate, qua, portiamo giù, dice un incendio, tanto, tanto traffico, sportivo sta andando, andiamo al teatro, che dice, il teatro abbiamo quasi raggiunto il massimo, 2949, quindi ci abbiamo, verso mezzanotte ci sarà 35.000 di guadagno per questo e 66.000 su quest'altro, perfetto, polizia, qual è il problema, abbiamo olicotteri, questa quanto costa 609, però non possiamo mettere altri servizi che vanno a influire sulle tasse, perché non stiamo messi bene, possiamo qua, edificio commerciale abbandonato, che altro, 2325, vediamo un po' appena finisce, fuoco d'artificio, ovviamente è finito, no, un'altra c'è 109.000, più fatto è pieno, sì, pienone qui, quasi pienone qui, 2.500, carica questi soldi, ok, perfetto, poi andiamo a che soldino a maglia carbon, vediamo un po', 2, 2, eccolo qua, mandiamo un regaluccio di, qua, ma che cazzo, ok, una sessantina di cappa, vai, via, come te sbrighi arrivo a prendere i soldi, qua, vai, via, vai, vai, riscuoti, va, vai, riscuoti, Questo è il tempo di aspettare che il camioncino arriva, prende i soldi, torna indietro e mi dice consegnato. A quel momento vado su maglia carbon e controllo tutto quanto. Abbottigliato nel traffico. Ok, i zombie sbricionano sotto la luce del sole. Ok, inviati, vediamo che cosa succede. Non si sa. Ok, perfetto, facciamo una visita a maglia carbon. Ci siamo, ci siamo quasi. Facciamo questo episodio, vediamo un po' come procede. Continuo a mandare materiali, il petrolio è già finito, manca solo quello che sto mandando io. Forse anche un altro amico che sta su un'altra città, ha fatto riciclaggio, dovrebbe mandare anche lui un po' di materiale. Eccola qua. Anche qui ho messo questa fonte di energia. Ho messo anche qui l'impianto di depurazione con tutto il resto e l'ambaratam. vediamo qui se stanno arrivando i soldi. Scusate ragazzi, faccio una pausa un momento. Comunque eccoli lì stanno partendo, come vedete. Ci risentiamo tra pochissimo, scusate un momento. Rieccomi scusate, vediamo un po'. Eccoli lì, il furgoncino con i soldi che arriva. Andiamo un po' più veloce. Vai, vai. Portaceli sordi. E rimane così imbottigliato nel traffico. Intanto diamo un'occhiata come procede il materiale. Nel prossimo video comunque andrò un po' avanti in modo che la situazione migliora un po'. Spero che nel prossimo riuscirò a beccare proprio mentre costruisce o mentre viene terminata. In modo che comunque mettiamo fine al nostro lavoro. I materiali continuano a viaggiare. Vediamo se ci sono problemi di materiale nel magazzino. Qui nel magazzino ci stanno i minerali. Vediamo se questa fonderia funziona. Tutto a posto. Ok. Qui abbiamo sempre il solito problema con l'acqua reflu. Tanti edifici abbandonati. Tasse alte. Tasse alte. Io ho buttato qualcosa giù che non c'entrava niente. Perfetto. I soldi stanno ancora fermi nel traffico. Vediamo un po'. Scusate un attimo. Un'altra pausa. Pagano. Va bene. Eccomi ragazzi. Allora. I soldi sono arrivati. Ok. Abbiamo un po' di problemi con le tasse troppo alte. Dimmiiamo questa. Questa. bene comunque tutto procede dobbiamo soltanto aspettare mantenere un po le città risolvere un po di problemi che si vengono a creare tipo la salute acqua e refluo eccetera eccetera spero che nel prossimo episodio posso farvi vedere la grande opera in fase di completamento speriamo non già completata voglio proprio farvi vedere il momento in cui viene completata speriamo di riuscirci comunque come potete vedere tutto procede i materiali vengono consegnati manderò un po il gioco avanti da solo in modo che la prossima abbiamo delle novità abbiamo visto un po monumento valle che se monumento valle c'è Maria Monuments che ha risolto un po di suoi problemi fa tanti soldini ci rimandiamo qui per risolvere altri problemini tutti i problemini a parte tornato terremoto zombie che più ne metta oggi mi impappino più del solito per questo episodio è tutto ci vediamo al settimo giusto questo è il sesto no questo è il settimo ci vediamo all'ottavo episodio speriamo di vedere completata questa grande opera e magari possiamo cominciare una nuova serie o magari farvi vedere un'altra città che stiamo facendo in un'altra regione dopo questo è tutto vi ringrazio per la visione anche se siete sempre pochi o quasi nessuno un saluto da Lucogeno e come sempre GG ciao 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 ciao